Episodio 4 parte 2. Un traditore tra noi. Sto ancora cercando il collegamento tra ZP e la sezione rossa. Sento che ci stiamo avvicinando al progetto Dark Mirror, ma ci serve qualcosa che ci dia una svolta nelle indagini. Sono convinto che ci sia una talpa nelle Nazioni Unite. Lian aveva ragione a proposito di Hargrove. Edison era di nuovo scomparsa. Abbiamo le piante raccolte in Peru, è vero, ma Mujari sta incontrando grossi problemi nell'analizzarle. Qualcosa mi dice che Hargrove sapeva molto di più di quanto non ci abbia detto. L'assalto dell'ONU vacilla. Li aiuterò se posso, ma se incappiamo nelle truppe scelte dell'ASR per noi saranno guai. l'esplosione? I soldati di ZP usano le tende di decontaminazione dell'ONU come centri di comando. Bene, sai dove potrei trovare una di queste tende? Ce ne dovrebbe essere una all'estremità di questi corridoi. C'è un problema. Prima dell'esplosione non sono riuscito a ottenere un codice d'accesso per la tenda. Ormai hanno cambiato frequenza, per cui devi trovarmi un'altra radio. Ricevuto. Blu-Gun, chiudo. Un po' buio qui. Quasi non riesco a vedere dove vado. Posso prendere in prestito la sua torcia? negativo. Già così attiri troppo l'attenzione. Al riparo! Affermativo! Disparano! Vabbè, è completamente stupido questo comunque. Non c'è. Non c'è. non c'è il FAMAS è che ho pochi colpi signore non vedo niente, dov'è la torce elettrica? dai muoviti signore non vedo niente, dov'è la torce elettrica? no, aspetto ok almeno signore non vedo niente ma che cazzo, ma veramente? ragazzi ma state scherzando? al buio l'ho fatto ora con la torce non ci riesco niente, dov'è la torce elettrica? qua, qua è la torce elettrica, cretino mamma mia ragazzi come è crollata la saga di Second Filter non vedo niente, dov'è la torce elettrica? no, e come si via libera tutto bene sì signore, ma la radio è rotta maledizione, dobbiamo trovarne un'altra no ragazzi, sembrano le comiche di qua, affermativa sono qui non vedo niente non vedo niente sì bella cappa qui mi sa che non ci possiamo entrare no? perché il corridoio è chiuso oh prova nascosta oh forse venendo qua dobbiamo fare la cosa per salire vero? devi fare la scaletta esatto mi hanno preso mi sparano trovo un reparo ok sono ferito non c'è nessuno la quale è rimasto ma basta questo per passare? sì ok 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 il camping funziona sempre in dei tempi in dei tempi dei tempi anche perché poi ovviamente i livelli sono dei corridoi di qua sì signori quindi è normale che poi ok 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 allora io posso usare che tanto qui ce n'è un altro medipack ok perfetto strano che non abbia trovato però un giubbotto antiproiettina no ecco mi sa che è qua esatto oh ora siamo a posto vediamo cosa scoppia adesso perché tanto ormai sto livello è tutto così penso sia da questa parte Teresa ho trovato il primo centro di comando bene le vicino dovrebbe esserci un'altra radio ONU trovala e riuscirò a darti il codice di accesso in quest'area ci sono altri soldati la mia unità non esiste più bastardi ci avete uccisi tutti maledizione Teresa contatta il comando ONU le forze di ZP stanno uccidendo i prigionieri dobbiamo fermarle resta qui io sgombero la strada fino alla tenna se pensi di farcela esce allo scoperto e combatti eh lo picchia c'è veramente pubblicità per l'ONU pessimo no no Allora, a parte il fatto che lì c'è un'altra cosa di uranio impoverito qua, esatto. Allora, qui adesso dobbiamo salire. Aspetta, ma qua posso prendere le munizioni? Aspetta, ma qua posso prendere le munizioni? No, mi sa che non c'abbiamo nulla. Forse devo salire da qua, sì, c'è la scala. Ok. Forse mi conviene colpo singolo. Ok, da qua dobbiamo girare. Facciamo attenzione, se spuntano gli altri, eccoli là. Come cazzo m'ho preso? Facciamo attenzione, se spuntano gli altri. Ok. Non mi dire che ora devo coprire lui? Come cazzo m'ho preso. Ma cazzo m'ho preso. Guarda quanto cazzo gli hanno tolto. 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 Madonna mia. I comandi sono pazzeschi. al limite della sanità mentale ma le munizioni me le ha date anche per il famous prima devo trovare una radio dell'onu vede di qua diva eccolo soldato porta qui il frequency opera e fai funzionare la radio sì signore mamma mia ragazzi che è che trauma stosa un filter un trauma 541 quindi devo aprire la porta ma cos'è giubbotto di rettile subito 30 teresa l'unità di questo ragazzo è stata annientata lo lascio qui tu informa il comando dell'onu che qui è in corso un massacro le forze di zp non fanno prigionieri logan chiudo non temere ti farò uscire di qui vivo